Buongiorno a tutti, state tranquilli, non è che voglio farvi un trattato di storia, quindi non preoccupatevi. Sono molto contento che anche quest'anno ci sia la sala piena, perché questo è un sintomo di una grossa vivacità del territorio e sicuramente anche un sintomo di grosso interesse. Sì, vuol dire che la dottoressa De Valle e il dottor Possio in questo anno che è passato hanno lavorato molto bene, nel senso che è facile forse fare un evento che richiama, ripeterlo, vuol dire che si è seminato bene e soprattutto vuol dire che l'argomento è estremamente interessante. Quindi, ritornando alla storia, volevo partire appunto dall'anno scorso. L'anno scorso, se vi ricordate, già il dottor Di Stasi aveva detto che si stava iniziando a vedere l'uscita dal tunnel della crisi, però eravamo ancora molto dentro, forse lo siamo ancora oggi, e la risposta per cercare di uscire da questo tunnel della crisi era stata questa, quindi Lean Management, creare valore con l'innovazione gestionale. Quindi, Lean Management era sicuramente non la prima volta, perché non è la prima volta che si parla di Lean, ma forse era il caso di riprenderlo, anche perché non tutti i presenti in sala allora, come forse oggi, sapevano esattamente di che cosa si trattava, quindi bisognava iniziare a parlarne. L'altro concetto forte era quello del creare valore, l'ha già accennato il dottor Possio, è una delle parole chiare, si contrappone al concetto di spreco, e già l'anno scorso abbiamo ribadito che questo approccio non è lo strumento per affrontare l'inizio della crisi, ma è lo strumento per uscire dalla crisi, quindi non è sicuramente una, fra virgolette, tecnica di cost cutting. È vero che riduce i costi, ma ha una valenza decisamente più alta, e poi dopo lo vedremo. Altro tema forte dell'anno scorso era il tema dell'innovazione gestionale. Tutti quanti parlano di innovazione, tutti quanti parlano di nuove tecnologie, ma le tecnologie da sole non bastano, bisogna anche saperle gestire, e si acquisisce veramente vantaggio competitivo solo quando io sono in grado di dominarle le tecnologie, e quando acquisisco know-how, perché le tecnologie si possono comprare, chiunque le può comprare. Il know-how è difficile da comprare, ci vuole impegno, ci vuole tempo, ci vuole formazione, e qui ritorniamo al motivo per cui siamo qua. Quest'anno cambiamo registro invece, non perché gli argomenti dell'anno scorso non fossero importanti, ma perché ritengo che si debba sempre andare avanti, e quindi quest'anno abbiamo parlato e parleremo di storia, di storia dell'inthinking, e qui pigliamo a spunto i due testi sacri, scritti da Womack e Jones, La macchina che ha cambiato il mondo, e appunto il termine l'inthinking, e parafrasando i titoli dei testi, quindi per i manager che cambieranno il mondo. Ma perché la storia? Innanzitutto perché bisogna evitare di commettere gli errori che hanno già commesso gli altri, quindi dalla storia si può imparare. Altro aspetto è l'approfondimento, perché? Perché lo ha già forse accennato un attimo anche il dottor Possio, la tentazione è sempre quella di dire, ma noi siamo diversi, noi non possiamo, spero che con la mia presentazione, soprattutto con quella dei relatori che mi seguiranno, quindi delle testimonianze, capiate che non è un tema di essere diversi, di non essere giapponesi, da ultimo appunto il confronto anche con la storia di chi c'è molto vicino, e quindi sostanzialmente l'idea è quella di togliervi tutti gli alibi per affrontare questo percorso, che è un percorso duro, difficile, ma che secondo me e secondo molti è uno dei pochi percorsi che permette di garantire veramente la competitività e l'importanza appunto del fatto che questo percorso lo devono affrontare prima di tutto i miei mesi, perché qui ritorniamo al tema della centralità della persona in questo approccio metodologico. Vado veloce perché so che non ho molto tempo a disposizione, volevo solo dimostrarvi che il tutto, se leggete i libri dei tuoi testi sacri, nasce in Giappone e nasce non nella testa di qualche professore universitario o di qualche teorico, ma nasce dalla concettualizzazione per noi occidentali di un modello di funzionamento che aveva dato dei grossi risultati, questo modello lo sapete tutti, probabilmente è il modello Toyota. Quindi al di là degli acronimi, al di là delle sigle, al di là delle differenze di approccio metodologico, chiamiamolo All-In, chiamiamolo Toyota Production System, chiamiamolo World Class Manufacturing, Link Six Sigma o chiamatelo come volete, in realtà è dimostrato e vorremmo ulteriormente dimostrarlo oggi con le testimonianze delle aziende che sono qui vicine, che non è un problema di essere giapponesi, di essere americani, italiani o torinesi e non è neanche un problema di industrie. Qui oggi vedremo delle testimonianze, non ce ne sono nell'ambito dell'automotive, ma questo è oramai considerato una commodity, diciamo, nell'ambito dell'industria automotive, però nel mondo industriale e anche nel mondo dei servizi, oggi ci sarà la testimonianza di Telecom Italia, ma potevamo portare delle testimonianze di ospedali, di camere di commercio, che anche in Italia e anche a Torino hanno applicato con successo queste metodologie. La domanda però sorge spontanea, perché Lynn e perché non altro? Beh, la risposta è anche abbastanza semplice, perché i risultati sono eclatanti, sono sulla bocca di tutti, non solo nei libri, ma anche nella realtà. Sempre l'anno scorso vi avevo mostrato questa immagine che riportava delle cifre, ma il tema non è quello delle cifre. Le cifre possono essere anche superiori a quelle che sono qui indicate in termini di riduzione dei costi, eliminazione delle scorte, accorciamento dei time, eccetera, eccetera. Il tema è questi risultati, come li utilizzo, come li reinvesto? Il vero approccio Lynn prevede che si passi dall'efficienza all'efficacia. Quindi il concetto di base è, e per questo dicevo non è solo una metodologia di Coscati, ma è una metodologia che mi permette un approccio, se volete, di far crescere le aziende, è liberare risorse per potersi concentrare su nuovi business, sullo sviluppo di nuove attività, sullo sviluppo di nuovi mercati, sullo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi. Allora sì che ho l'effetto moltiplicatore. Con gli amici di Elica discutevamo proprio un attimo fa dell'importanza di lavorare in parallelo non solo sulle attività di manufacturing, ma su N processi, in contemporanea, perché si genera veramente un effetto volano e un effetto moltiplicatore. Non tutte le aziende lo possono fare o si possono permettere di farlo. Questo non deve essere, ripeto, un alibi per non partire. Dato che non voglio fare qui una parte di corso di formazione, non voglio raccontarvi quali sono gli elementi caratteristici del Lean Management, quali sono i principi, eccetera, ma solo porre la vostra attenzione su alcuni aspetti che sono già stati in parte citati anche dal dottor Posso. Quindi fare Lean Management che cosa significa? Significa più valore e meno sprechi. L'ha già citato subito il dottor Posso, è il primo elemento cardine, bisogna imparare a vederlo il valore, bisogna combattere gli sprechi. Più flusso e meno code è il contrario della produzione di massa, che però ha dato dei grossi risultati in un contesto di mercato diverso. Vuol dire cambiare anche i modelli organizzativi e orientarsi sempre di più verso un'organizzazione per processi, anziché verso le organizzazioni classiche, tradizionali, di tipo funzionale, gerarchico. Però tutto questo, al di là delle tecnicality, degli strumenti, lo smedi, il campano, il just in time, eccetera, eccetera, in realtà parte da un concetto di base, che i processi devono essere efficienti, devono essere stabili, il che significa che devono essere sostanzialmente standardizzati. E questo, ritornando al discorso della storia, spesso e volentieri viene tralasciato. Quindi, il mio messaggio oggi è, cerchiamo di capire che cosa hanno fatto anche i padri del Lean, per evitare questo genere di problemi. Il concetto di standardizzazione non è un concetto facile, soprattutto non è un concetto che di solito si tratta nei convegni, perché è più bello parlare di technicality, di pool, di just in time, di Eijunka, o cose di questo genere. Sembra un concetto banale, a noi italiani poi, normalmente, dà anche un po' fastidio. La standard è un festito un po' stretto, che dice, mi limitano i movimenti, ma io sono molto bravo e reagisco a qualunque richiesta del mercato, quindi non posso standardizzarmi, perché sennò perdo la flessibilità, eccetera. Capiamolo bene che cos'è il concetto di standardizzazione, capiamo che cosa intendono per esempio i giapponesi in termini di standardizzazione. Quindi, scusatemi ma io sono un ingegnere, quindi devo fare un grafico, è obbligatorio. Quindi se noi abbiamo, immaginate voi qualsiasi processo e vediamo le performance nel tempo di questo processo, siano esse livello di efficienza, l'entità delle scorte, livelli di qualità, eccetera. Se sono in una situazione altalenante di questo genere, certo la prima cosa che verrebbe da dire è chiamiamo i consulenti che vengono qui, mi fanno due settimane case e ne risolviamo il problema. Non è così. Magari qualcuno si propone, ed è anche vero che se vengono dei bravi consulenti insieme a voi che conoscete l'azienda, che conoscete i processi, eccetera, qualche cosa si porta a casa. E qui dico la prima eresia. I giapponesi non fanno kaizen. In una situazione del genere si rifiutano, i miei colleghi giapponesi, quando li vedo, si rifiutano di fare kaizen in una situazione del genere. Perché il primo passo per loro è ridurre la variabilità. Quindi la prima cosa che normalmente mi sento dire dai colleghi giapponesi è, quando c'è una situazione fuori controllo, un processo non stabile, definiamo il modo attuale, non migliorato, il modo attuale di svolgere questo processo e rendiamolo stabile. Facciamo sì che tutti quanti si comportino nella stessa maniera e soprattutto nel tempo anche. Il processo dia sempre gli stessi risultati. dopodiché ovviamente devo andare avanti, stabilizzarlo e poi che cosa può succedere? Può succedere che a questo punto sì, riesco a vedere quando ci sono dei fattori esterni che mi generano delle perturbazioni. Qui non me ne rendo conto, non riesco a capire che cosa è successo. Allora a questo punto sì, posso iniziare con tutte le tecniche di problem solving eccetera eccetera. Quando è che lo faccio il kaizen? Dopo. Alla fine. Per un giapponese fare kaizen significa modificare lo standard verso l'app. Cambiare lo standard e trovare a questo punto sì il modo migliore per svolgere un processo, per fare un'attività lavorativa, per montare o assemblare un prodotto o cose di questo genere. Questo principio spesso volentieri sui libri non viene tracciato. Perché? Perché fa molto più scena parlare di pool, di just in time o di altre technicality che sono più appealing. Però la domanda è come si fa a fare lo standard, come si insegna soprattutto alle persone a rispettare lo standard e poi come si continua ad andare avanti e a migliorare. Qui permettetemi ancora un po' di storia e ritorno veramente indietro nel tempo. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare di TWI, il training within industry. Che cos'era il TWI? Era un programma di formazione e qui inizio i primi assist alla dottoressa De Valle. L'importanza della formazione. Guardate, non nasce in Giappone, nasce negli Stati Uniti e nasce durante la seconda guerra mondiale per consentire all'azienda America di sostenere lo sforzo bellico e di formare, guardate i numeri, 1,6 milioni di persone che dovevano costruire aerei, navi, fucili eccetera eccetera, con risultati incredibili. Questi sono i dati che si trovano in letteratura, se andate su internet li potete trovare. Dopo la guerra gli americani l'hanno dismesso. Perché? Perché non c'era più bisogno. Perché? Perché cambiavano le condizioni di mercato. In quel caso era un mercato di guerra. Subito dopo è nata il boom economico degli Stati Uniti e ritornata in auge la vecchia mass production. In Giappone invece non se lo potevano permettere. E quindi che cosa hanno fatto? Nel dopoguerra, come da noi c'è stato il piano Marshall, anche loro hanno importato una serie di metodi e quindi le principali imprese giapponesi hanno iniziato a svolgere interattività di formazione. La prima cosa che hanno fatto, ma una formazione pratica, wedding industry, all'interno delle aziende. E guardate, questi sono i testi originali, se guardate le date, sono le fotocopie proprio dei testi originali, sono datate 1945. E che cosa è che hanno imparato a fare? Hanno imparato a fare la standardizzazione, né più né meno di quello che abbiamo visto prima. Quindi non si sono inventati subito il just in time. Quello è venuto dopo. Job instruction, come fare ad addestrare le persone. Job method, quindi come migliorare continuamente. E job relation, come gestire le risorse. Prendo un altro testo da un libro molto bello che si intitola Toyota Kaizen Method di Isao Kato e Ars Malley. Ars Malley è uno dei membri autorevoli dell'In Enterprise Institute, uno dei più famosi formatori sulle tematiche linee. Isao Kato, un ex manager di Toyota. In questa timeline, che forse non si vede bene, perché purtroppo è la fotocopia di un libro, si vede quali sono state le attività che Toyota ha fatto a partire dagli anni 50. Guardate che cosa ha fatto come prima cosa? Non è che Taichi Onos ha inventato il Kanban da niente. Ha iniziato e per dieci anni hanno fatto Training Within Industry. Dopodiché hanno sviluppato il loro modello di gestione delle risorse di gestione e della standardizzazione basato sul Training Within Industry. Poi hanno fatto un'altra cosa. Hanno chiamato tale Shigeo Shingo, che qualcuno di voi conosce, nostro ex collega, per fare corsi pratici. P-Course sta per Production Course, sono corsi che si svolgono in fabbrica, non nelle aule. Io mi ricordo di una cena che una delle aziende qui presenti si era anche dimostrata disponibile ad ospitare qualcuno, magari con la dottoressa De Valle. Riusciamo a organizzare qualche P-Course, giusto? Poi il DPS lo hanno iniziato a codificare negli anni 70. Prima non esisteva neanche. Lo facevano le cose, non le scrivevano. E da ultimo il tema fondamentale del coinvolgimento delle risorse umane e dei sistemi di suggerimenti. Che è possibile solo se io ho una quantità enorme di persone addestrate a svolgere attività standardizzate. Perché lo standard chi lo modifica? Lo modificano i tecnici, gli ingegneri, l'amministratore delegato? Lo modificano le persone che lo applicano. Perché sono loro che sono sul pezzo e che sono in grado effettivamente di portare delle migliorie. Qui nasce il vero e proprio concetto del Kaizen alla giapponese. Vado veloce. Quindi qual è il percorso? Il percorso che vi proponiamo? Formazione. Perché bisogna capire, essere consapevole, formazione base. Poi ancora formazione perché comunque ci sono le technicality. Non pensate che applicando le technicality siete in grado di fare l'IN o il WCA. però le technicality sono importanti. Poi, altro aspetto fondamentale, la trasformazione linea è un processo top down oltre che bottom up. Quindi deve essere ben pianificata. Ci sono anche delle tecniche per pianificare e per sviluppare un piano organico di miglioramento. poi bisogna fare. Signori, non viene gratis. Bisogna impegnarsi e impegnarsi tanto. Da ultimo, una volta fatto, abolite la parola progetto e iniziate a parlare di programma. Nel senso che non finisce mai. Toyota non smette. Le aziende veramente brave stanno continuando a lavorare su questo punto di vista. Solo così si possono ottenere dei risultati eclatanti e significativi. chiudo mostrando un'immagine che il dottor Posso ha già visto in un convegno a cui ha partecipato l'Associazione Industriale di Vicenza e che prendo a prestito dal mio collega Nobuyuki Tamaro, che vuole essere un incitamento e anche un modo per togliere gli alibi. Non iniziate a dire ma noi non siamo abbastanza snelli, non possiamo perché la nostra azienda è diversa, eccetera. Cioè, non esiste il modello da applicare fotocopia, reinventatevi il vostro modo e pensate che chiunque è popolare. Grazie.